ESP Fenomeni Paranormali è il miglior film dell'anno. È il fenomeno cinematografico di cui tutti parlano. Aiutatici! Fodici a scena! Siamo venuti qui per scoprire la verità su Filmest. Non immaginavamo che fosse tutto vero. Tutto ok? Sì, sì. Bene. Scappiamo! Non usciremo mai da qui. ESP 2 Fenomeni Paranormali. Dal primo agosto al cinema.